1992, è l'anno della consacrazione delle vetture sportive a trazione integrale. La ricetta non è nuova, l'ha ideata l'Audi nel lontano 1981 con l'A4, nata con lo scopo di rivoluzionare il mondo dei rally e lo fece con un crescendo che portò all'epoca eroica e folle del gruppo B, l'irripetibile breve stagione i cui attori, piloti, navigatori, progettisti, costruttori, meccanici, il pubblico, le auto, sono entrati direttamente nella leggenda. Quando prevalse la ragione e si tornò a livelli umani, fu la lancia a dettare le regole del gioco e si inventò la Delta HF4WD, la prima di una lunga e fortunata serie. Seguendo il suo esempio, tanti costruttori sperimentarono la loro idea sul tema e sfornarono i loro modelli più o meno riusciti. Dalla Mazda 323 GT alla Serra Cosworth, passando per la Selica o la Rally Golf, le case realizzavano le loro vetture con lo scopo di partecipare da protagoniste al campionato mondiale rally e con l'obiettivo, nemmeno tanto celato, di spodestare dal trono quella che da tutti era ed è considerata la regina. La Delta HF, che dal 1987 al 1991 è stata la dominatrice incontrastata ed è proprio il 1992, l'anno in cui, sia nelle competizioni che sul mercato, la schiera di concorrenti si fa più numerosa e agguerrita per la lancia, che pochi mesi prima aveva presentato l'ultima e definitiva variante della sua berlinetta, l'HF Integrale Evoluzione, per tutti la Deltona. La Ford aveva replicato con la Escort RS Cosworth, che riprendeva la meccanica della Sierra, ma rispetto alla quale non era una vettura di compromesso, era un'arma assoluta, creata appositamente per sconfiggere la Delta. E per farlo non si era badato a spese, nemmeno nell'ingaggio del migliore interprete dell'AHF, Mickey Biazion, che avrebbe dovuto portare al successo la nuova nata dell'ovale blu. Contemporaneamente, dal Giappone arriva l'ultima evoluzione della Mazda 323, denominata GT-R, la più piccola della categoria, ma una delle più complete performanti, sviluppata sull'eccellente base della GTX, fresca vincitrice del campionato mondiale gruppo N nel 1991. La Nissan esordiva con la Sunny GT-R, che sembrava voler spodestare la Escort nel ruolo di avversaria più concreta della Delta, mentre la Toyota rinnovava la Selica, che finora, nei campi di gara, era stata l'unica ad impensierire la squadra Lancia Martini. Anche la Subaru, discretamente ma con grande sostanza, migliorava la Legacy, che arrivava alla sua massima espressione, prima di lasciare il posto alla ben più famosa Impreza. Ma altre due case volevano far parte del gioco. Da una parte, la Opel, che presenta la calibra Turbo 4x4, che abbina al riuscito design, che aveva fatto riafficinare il grande pubblico alle coupé, una meccanica raffinata, realizzando una versione che avrebbe dovuto riaccendere i riflettori sulla tradizione della casa nei rally. Dall'altra, l'Audi, l'artefice di questa nicchia di mercato, che sfodera la coupé S2, realizzata quasi in sordina, poco pubblicizzata e mai sviluppata ufficialmente per le gare, ma sicuramente, per qualità e tecnica, una delle migliori della categoria, ma con un prezzo davvero elevato. E con grande sorpresa anche l'Alfa Romeo della partita, con la nuovissima Alfa 155 Q4, in realtà più pensata per l'utilizzo in pista che per i rally, ma comunque realizzata, scusate se è poco, sulla meccanica della Delta HF, la quale era stata affiancata dalla Dedra Integrale, vettura di compromesso tra sportività ed eleganza, ma in quanto a prestazioni, soprattutto in ripresa, è una delle più efficaci della categoria. Da non dimenticare, la Renault 21 Turbo Quadra, con qualche primavera sulle spalle, leggermente depotenziata, ma ancora in grado di dire la sua sui percorsi guidati. E per restare in Francia, l'altra casa, famosa per le 4x4 da competizione, la Peugeot, al momento non aveva all'istino una concorrente che arriverà solo nel 1993, la 405 T16. La Volkswagen, invece, dopo il fiasco della Golf Rally G60, aveva definitivamente abbandonato la competizione. Immaginiamo ora di tornare indietro a quel 1992 e di avere la possibilità di spendere il nostro gruzzoletto nell'acquisto di una di queste bombe a quattro ruote. Prima di fare il grande passo della scelta, analizziamo nel dettaglio, senza pregiudizi, in ordine alfabetico, le protagoniste di questo confronto di alto livello e, a fine rassegna, dopo le schede tecniche e la tabella comparativa delle prestazioni rilevate, studiamo la pagella, che basandosi sull'esperienza personale, sui test dell'epoca, sulle prestazioni reali, sull'affidabilità e sull'indice emozionale, decreterà la classifica definitiva, che riserverà anche qualche sorpresa. Solo i fascioni e le minigonne in colore fettura, la mascherina più aggressiva e i cerchi in lega fuori rotondi la distinguono dalle altre 155. All'interno, sedili profilati, rivestimenti in finta pelle nera e tessuto, buone finiture e ottima abitabilità e un posto guida davvero ben studiato. Strumentazione completa, manca però il manometro del turbo. La meccanica è fondamentalmente la stessa della Delta HF integrale 16 valvole. Una nuova iniezione elettronica Weber disegna una curva di coppia efficacissima, che permette prestazioni molto elevate, soprattutto in ripresa, dove si rivela inarrivabile anche per le vetture più sportive della categoria. Tra le peculiarità, l'assetto regolabile elettronicamente è disponibile a richiesta. Su strada mostra un carattere degno del marchio, con un motore potente e davvero cattivo, lo sterzo ben calibrato, il cambio dei rapporti ben scalati e una buona manovrabilità e la frenata di livello assoluto. La tenuta di strada è davvero esagerata, con qualsiasi condizione di fondo. I limiti di aderenza sono elevatissimi. La ripartizione di coppia che predilige il retrotreno permette di divertirsi in totale sicurezza. È una vettura decisamente migliore di quello che si dice su di lei. Un'auto il cui destino è stato segnato da tanti preconcetti creati dal fanatismo ottuso che non ha nulla a che vedere con la cultura automobilistica. Il design, più elegante che sportivo, ha personalità. Pochi particolari, tra cui cerchi, paraurti anteriore e targhette, la distinguono dalle versioni normali. Internamente, design misurato e finiture di altissima qualità, post guida ottimo, abitabilità ridotta al posteriore e un buon bagagliaio. La meccanica è robusta e affidabile. Il motore 5 cilindri, 20 valvole turbo si contraddistingue per la tecnologia e soprattutto per il personalissimo sound. Trazione efficace con blocco manuale del differenziale posteriore. Cambio eccellente, sterzo non troppo sportivo, frenata buona. Tenuta di strada di altissimo livello. Stabilità notevole. Le prestazioni sono molto elevate, soprattutto la velocità. È la più pregiata tra le concorrenti, ma anche la più costosa e di tanto. E spesso, ad un prezzo elevato, non corrisponde la migliore della categoria, soprattutto per carattere e divertimento. È una vettura molto veloce e altrettanto sicura, ma manca di quel quid emozionale che ha fatto la fame e la fortuna della Delta o della Escort. Esteticamente la più estrema. L'alettone posteriore, retaggio della prima Sierra RS, è davvero vistoso, ma è anche molto funzionale. Per la gioia dei clienti più discreti era disponibile gratuitamente a richiesta. Anche lo spoiler anteriore è vistoso ed è regolabile su differenti posizioni. Caratteristici e personali, i cerchi 8x16. Internamente, alla plancia delle Escort più economiche, si abbina una strumentazione retroilluminata, tanto completa quanto scenografica. Posto guida tra i migliori della categoria e non solo, grazie anche al sedile Recaro, che non ha alcuna pecca. Le finiture sono buone, ma non eccezionali. La meccanica ricalca lo schema della Sierra Cosworth, dalla quale riprende la posizione longitudinale del propulsore, uno dei migliori due litri sovralimentati di sempre. La ripartizione della trazione è marcatamente indirizzata al posteriore. Il cambio mantiene la consueta buona manovrabilità Ford. La frenata è potentissima. Lo sterzo, aiutato anche dall'aerodinamica e dalla tipologia di pneumatici, è semplicemente perfetto. La tenuta di strada è di livello superiore. I limiti sono praticamente impossibili da sondare su strade normali. Il controllo è eccellente sia sui percorsi guidati che ad alta velocità, dove si sente l'apporto dello studio aerodinamico. È stata progettata per diventare la prima della classe e si sente. Una delle migliori trasformazioni sportive di sempre. Un percorso evolutivo, meccanico ed estetico, che ha creato un'icona. Ogni particolare è perfettamente integrato in un design personale e inconfundibile, senza tempo. Tante modifiche dettate da precise esigenze tecniche e agonistiche, ma realizzate con grande senso estetico. Anche il disegno degli interni denota personalità. Materiali, particolari e dimensioni la distinguono dalla concorrenza, con il surplus di una strumentazione quanto mai completa e specialistica. La meccanica è quella efficacissima, che ne ha definito un carattere unico. Un sistema di trazione semplice, ma molto funzionale, con prevalenza di coppia al posteriore. Il motore è una garanzia per carattere e prestazioni e con le dovute manutenzioni è anche molto affidabile. Lo sterzo, affinato, è preciso e comunicativo. La frenata è a livelli assoluti per potenza e resistenza. Solo il cambio, un po' contrastato, non è impeccabile. Al volante la Deltona regala emozioni uniche. È una delle migliori esperienze di guida in assoluto. Tenuta di strada, aderenza, sensazione di controllo, tutto ai massimi livelli, senza filtri, così come è possibile sentire i differenziali all'opera per ottenere il massimo dalla vettura. Certo, non sono tutte rose e fiori. I conosciuti difetti strutturali, per esempio, figli di una progettazione non recentissima messa duramente alla prova dalle forze generate da potenza e livelli di aderenza estremi, ne ha nominato il mito di robustezza, ma le emozioni vere che regala piene mani e l'incredibile rivalutazione degli ultimi dieci anni ripagano qualsiasi malumore. Al momento della presentazione ostentava un design elegante e innovativo, non privo di personalità e un'aerodinamica raffinata. Interni spaziosi, ben rifiniti e disegnati con gusto, e una miraglia in scala ridotta, personalizzabile con accessori esclusivi come la strumentazione optoelettronica, le sospensioni irregolabili elettronicamente o gli interni in pelle. La meccanica è quella della Delta HF integrale ottovalvole e la trazione ha una leggera prevalenza sull'avantreno, inoltre alla finezza del blocco manuale del differenziale posteriore, che aiuta nelle situazioni difficili. Sterzo, freni e cambio molto efficaci. Non è estrema come la Delta, ma è molto più cattiva e sportiva di quanto il design possa far pensare. Il motore regala prestazioni a livello delle migliori concorrenti, soprattutto in ripresa, dove registra tempi eccezionali, inarrivabili anche dalle più sportive tra le concorrenti. L'assetto rigido permette notevoli velocità in curva, in totale sicurezza. L'aderenza raggiunge livelli elevatissimi, su qualsiasi fondo. Nella guida più impegnata diventa nervosa e reattiva, ma sempre perfettamente controllabile. Una vettura poco considerata, ma davvero molto efficace. Non sembra una vettura particolarmente esuberante, invece una serie limitata costruita in soli 5.000 esemplari per omologare componenti per le competizioni. Senni distintivi, il massiccio paraurti anteriore dotato di due grossi fari supplementari, le prese d'aria sul cofano e i cerchi da 15. Gli interni abbinano ottime finiture e sedili veramente ben realizzati a una strumentazione più adatta a un'utilitaria che a una raffinata 4x4 creata per le gare. Ben studiato il posto guida. La meccanica deriva da quella robusta che ha permesso alla Mazda di primeggiare nel campionato mondiale gruppo N nel 1988 con la prima 4WD e nel 1991 con la GTX da cui deriva la GTR. Il motore, il più piccolo di questo confronto, è anche uno dei più raffinati, grazie anche a modifiche che ne hanno incrementato potenza e robustezza. La turbina più grossa ha cambiato suo carattere, ora è più vuoto in basso, a discapito della reattività che caratterizza la GTX, meno potente ma decisamente più efficace in ripresa, mentre è davvero cattivo agli alti regimi. La trazione privilegia il retrotreno, sterzo e freni ottimi, il cambio manifesta qualche leggera esitazione. Su strada è una delle più efficaci, tenuta di strada elevatissima, stabilità di alto livello anche alle velocità più elevate e sui percorsi guidati si rivela agile e davvero efficacissima. È una vettura ben bilanciata e leggera, con un carattere da prima della classe. Il design, dettato da esigenze funzionali, non è particolarmente riuscito. A spoiler e prese d'aria non perfettamente accordate, si abbinano ruote dal diametro ridotto che accentuano un'immagine poco slanciata. Meglio gli interni, con un insieme armonico e ben realizzato, è dotato di una strumentazione davvero completa. Buono il posto guida e le finiture, mentre l'abitabilità non è il suo punto forte. È una vettura robusta e ben costruita, con qualche leggera pecca nell'assemblaggio. Il motore è potente e sfruttabile in un ampio campo di giri. Il turbo si fa sentire con un'erogazione quasi violenta. Le prestazioni privilegiano lo scatto da fermo, che è il migliore della categoria. Buono il cambio dalla singolare manovrabilità in diagonale. Sterzo preciso, ma non eccezionale. I freni sono molto potenti. La trazione, equamente suddivisa tra avantreno e retrotreno, è efficace, ma nella guida più impegnata ne caratterizza il comportamento, che diventa abbastanza nervoso. Quando si oltrepassano i limiti, peraltro davvero elevati, la GT-R diventa molto esigente. Nei piani Nissan doveva essere la migliore della classe, ma caratteristiche eccellenti fanno da contraltare altre non a livello di una vettura così performante. I consumi inoltre sono davvero elevati. Il conosciuto e affilato design della Calibra, che ha il merito di aver rilanciato il concetto di coupé, cambia solo nel disegno e nelle dimensioni dei cerchi. L'abitacolo, a parte il pulsante del volante con la scritta turbo, è identico alle altre versioni. Ergonomicamente è valido, molto spazioso, ben costruito e confortevole. Il motore è il classico 2 litri 16 valvole Opel. Dotato di turbo per l'occasione, è molto potente ma non nervoso. Ha il pregio di conciliare potenza ed elasticità e con le dovute cautele si riesce anche ad avere consumi accettabili. Ha il cambio a 6 marce, con l'ultimo rapporto decisamente lungo. La manovrabilità è buona, anche se nell'uso sportivo mostra qualche incertezza. Lo sterzo è valido per consistenza e sensibilità, manca leggermente di precisione. Tutta la meccanica è robusta e funzionale, ma non ai livelli delle concorrenti più specialistiche. Le sospensioni sono abbastanza rigide, ma non estreme. È più una vettura per velocissimi trasferimenti in totale sicurezza che da prova speciale. Ha una tenuta di strada davvero elevata ed è molto stabile anche ad alte velocità. Nei percorsi più guidati non ha l'agilità delle concorrenti più sportive, ma si difende molto bene. Il design è figlio degli anni 80 e si vede. Dettato dalla razionalità e dalla funzionalità, è caratterizzato da un frontale più aggressivo ed è consueti accessori aerodinamici. L'interno è tipicamente Renault, comodo, spazioso, razionale, magari non troppo rifinito, ma comunque ben studiato. Con i rivestimenti in pelle optional l'ambiente migliora. La meccanica è robusta e affidabile. Il motore, il meno raffinato dell'otto, su questa versione catalizzata ha 13 cavalli in meno, ma comunque garantisce buone prestazioni. Ottimo il cambio. Il sistema di trazione privilegia l'anteriore, mentre è dotato di blocco manuale del differenziale posteriore. Lo sterzo è abbastanza preciso e diretto. Anche i freni sono molto potenti resistenti, perdono leggermente in efficacia dopo sforzi prolungati. In quel periodo, in Francia, gli assetti sportivi li sapevano fare e la turbo quadra non sfugge alla regola. Efficace e divertente è molto sicura anche alle velocità più elevate e, a dispetto di una potenza inferiore alle concorrenti più recenti, sui percorsi guidati permette prestazioni elevatissime e un passo rispettabile. Il tiro in basso del motore compensa la carenza di cavalleria e, a riprova dell'eccellente lavoro dei telaisti Renault, il comfort è buono per una sportiva. Dimenticavo un particolare importante. Ne hanno fatte soltanto 900. A buon intenditor. Il design filante personale dissimula le dimensioni, ma non mostra acuti particolari. In quest'ultima serie è più sportivo e caratterizzato. L'interno è tutta sostanza e poche emozioni, non troppo personale, un po' freddo, ma ben rifinito e spazioso. Ben congegnato il posto guida. Il motore boxer è potente ed elastico, fluido e silenzioso. La sua erogazione maschera le reali prestazioni. La frizione richiede un po' di apprendistato per essere modulata al meglio, mentre il cambio è un po' contrastato e ha rapporti troppo lunghi che mortificano le riprese. Lo sterzo è un po' troppo leggero, soprattutto nella guida veloce. I freni invece sono decisamente potenti e resistenti. La trazione, come consuetudine Subaru, è efficace e garantisce ottima presa su ogni fondo. Nella guida più impegnata le sospensioni si rivelano troppo morbide, ma è una vettura comunque veloce e sicura. Una volta conosciuto il suo comportamento permette di andare molto forte. È una vettura di poca apparenza e molta sostanza e infatti è ancora in vetta nelle classifiche delle auto più affidabili. Uno dei più personali design realizzati in Giappone. Linea armonica e filante, davvero riuscita. Anche gli interni hanno un design personale e sono realizzati con grande cura per materiali e assemblaggio, una vera Toyota della vecchia scuola. Il posto guida è quasi perfetto. Il motore è molto potente affidabile, ma un cambio dei rapporti troppo lunghi e un peso considerevole ne ammorbidiscono il carattere e di conseguenza le prestazioni effettive non sono a livello della concorrenza più qualificata, anzi per certi versi sono proprio deludenti. Tutta la meccanica è ottima per esecuzione e funzionalità, cambio eccellente per manovrabilità, sterzo preciso e ben rapportato, freni potenti e resistenti, efficace il sistema di trazione. A un design così sportivo non corrisponde un comportamento aggressivo. Non è una vettura lenta, sia chiaro, ma appare abbastanza mirata al comfort, con un assetto non troppo rigido e un motore a cambio che potrebbero esprimersi a livelli più consoni agli oltre 200 cavalli dichiarati. È comunque un'ottima esperienza di guida. Un'auto costruita con criteri oggi impensabili, fatta per durare nel tempo e resistere alle sollecitazioni più estreme. Resta il rimpianto di un motore dal carattere più cattivo. Durante il 1992 la Toyota cerca di rimediare con la serie limitata Carlos Sainz, che oltre paraurti e cofano modificati ha un assetto più rigido e un'erogazione leggermente più cattiva, ma non basta per eguagliare le più dotate della categoria. Grazie a tutti.